Il dottor Albino Bricolo, neurochirurgo che ha seguito il decorso post-operatorio di Christian Kivu. Sentiamo le sue parole sul giocatore e sulle sue condizioni. È stato fra l'altro un paziente modello, molto bravo, collaborante. È difficile vedere nei grandi sportivi un personaggio così in un certo senso umile e collaborante. Sono molto contento per lui. Dovrebbe essere andato tutto bene. C'è sempre da fare le corna, aspettare perlomeno altri 7-10 giorni per essere sicuri al 100%. Mi pare che tutto sia andato nel migliore dei modi. Ho anche sentito gli infermieri o chi era a contatto con lui lì vicino. Molto tranquillo, Kivu si alzava, camminava senza problemi. È veramente un ragazzo eccezionale che è difficile vedere nelle persone che sono di così alto livello, di alta popolarità, che di solito sono un po' così diciamo, non simpatici. Senz'altro la fortuna nella sfortuna, probabilmente lo dico io, che questo incidente sia accaduto proprio qui a Verona dove c'è un'equip tra le migliori d'Europa se non del mondo. Sì, è stata una fortuna, diciamo una fortuna. Per noi, voglio dire, qui a Verona c'è una grande tradizione nel trattamento dei traumi cranici e quindi, voglio dire, ha avuto veramente la fortuna di incontrare, di essere in un'area di questo genere. Ciò non vuol dire che fosse stato anche ricoverato in altre neurochirurgie, non avessi avuto lo stesso trattamento, ma qui una certa garanzia c'è di un buon livello di chirurgia. Per chiudere, lontano da occhi indiscreti, c'è stata anche la visita di Sergio Pellissier a Kivu. Verrebbe subito da dire che Pellissier ha la testa davvero molto dura. Ma no, si tratta che lui ha urtato la testa di Kivu, ha urtato la testa con la parte sua più forte, che è la fronte, ha urtato la parte più debole del cranio, quindi non è che uno ha la testa dura e l'altro ha la testa molla. Sarebbe successo l'inverso se fossero incontrati in una maniera diversa. Io ho fatto una battuta perché il peggio, come dicevo prima, è passato. Però Pellissier ha voluto tornare in campo dopo quel tremendo scontro, forse un po' di inconscienza c'è stata. Ma però lui ha avuto una brevissima perda di coscienza e poi ha ripreso subito. E effettivamente ci sono queste concursioni qui che sono più o meno quasi, non dico i knock-out di chi gioca a boxe, ma comunque sono dei brevissimi perdi di coscienza che non dimostrano un danno cerebrale. Insomma, sono cose che succedono a ognuno di noi per un'improvvisa caduta. Insomma, anche Pellissier l'ho visto parlato dopo che lui era piuttosto, diciamo, un po' disperato per aver causato questo caso, ma un gentiluomo veramente anche lui.